Si intitola Pam e Tommy ed è una serie che andrà a debutare il 2 gennaio 2022 su Star, su Disney Plus e Disney Plus ha diffuso un teaser che lancia il trailer, o meglio la serie in questione, in attesa dei primi due episodi poi ci sarà un episodio ogni settimana, questa serie è ambientata ai primi tempi della diffusione del web quando ancora non c'erano delle regole vere e proprie, Pam e Tommy si basa sulla storia del sex tape di Pam and Anderson e Tommy Lee rubato da una casa della coppia da un operaio scontento, Sir Seth Rogen, il video diventò virale, o meglio ebbe una curiosità morbosa e creò uno scandalo vero e proprio in tutti gli Stati Uniti d'America nel lontano 1997 vediamo quello che succederà nella serie in questione, il video termina qua, iscrivetevi e commentate ciao a te, un narrato italiano